La mostra anime diverse qui a Cosenza alla Galleria LB fino al 30 novembre. Una mostra che collega questi tre artisti con questi tre percorsi differenti. Sono tre anime che si intersecano fra loro. E il risultato è l'incontro delle arti che viene sviluppato in maniera artistica e molto creativa. La mostra è bellissima, vi consiglio di passare a vederla. Quindi vi aspettiamo numerosi e a presto. Grazie a tutti.